Che cazzo stai facendo? Senti, guarda, ti ammazzo, guarda, muori, per favore, grazie. No, perché sei stata davvero la più brutta imboscata del mondo. Che c'era quello dietro al legno. Sì, esatto. Allora, parliamo. Bene, parla col tizio e basta. In tal cazzo sei un gradito cliente. Ciao Ale, sono in V, ciao Pepo, non lo saluto perché è una bruttissima persona, fai bene. Fai bene ragazzi, perché Pepo è una bruttissima persona, non prendete esempio da lui. No, in realtà ho detto che tu sei una brutta persona. Allora, cosa devo comprare? Amato, non lo saluto perché è una bruttissima persona. Basta, me ne vado dal live, ciao a tutti ragazzi, buon anno. Dimi cosa devo fare. Ma io sinceramente non lo farei quello che stai facendo te, cioè comprare frecce e arco perché secondo me è inutile. Io mi alzerei il livello finché non arrivi al 24. Il randello rinforzato? Ma io voglio il randello. Voglio troppo il randello io, eh. Quanto costa? 350, costa niente. Yeah. Ma come faccio a capire se è molto più forte quello che è da lui o quello che sto io? Dal primo numero. Il primo numero è l'attacco. Ok, e come faccio a vedere quanto ha la mia, scusami? E il randello rinforzato a 97, tu esci e vai nel tuo menu e vedi. Voglio di ammazzarti, ma tua sorella va ad ammazzarsi. Tira pompini a raffica a morire di pomperoni. Non è vero! Sì, mi stai sul cazzo con la cosa. Se ce l'avessi sarebbe una brutta. 95, no vabbè, ti assicuro, 97 di due. Però sono tentato, il randello non mi piace. No, Pepo, lascia. Ah, devi anche guardare il po' di attacco, quanto ci metti. Ma il randello è molto più veloce. E' l'ultimissimo numero. Sì, questo l'hai deciso te adesso. Mamma mia, sei fastidioso. Stai zitto. Allora, aspetta, l'ultimissimo numero hai detto. Allora, cambia l'equipaggiamento. L'ascia da battaglia è 95, 233, 4.0. 4.0 devi guardare. Quello è veloce, 4.0. Allora, vediamo il randello. Che cosa vuoi? Ragazzi, sono una persona, non una bruttissima persona, irrazia. Bruttissima persona. Allora, il randello è 4.0. E allora è uguale, ma lascia stare allora. Il randello è più veloce. Certo, dici tu, ma se ci sei 4.0. Vabbè, ma... E' uguale, vabbè. Allora, va bene, mi prendo le frecce grandi. No, mi prendo il quadrello pesante. Eh sì, ma costano il mondo, costano. Cioè, mi posso prendere 30 frecce al massimo. Ti dico, se arrivi al 24 possiamo giocare insieme. Quindi io ti consiglierei di arrivare prima al 24. Quante frecce mi consigli di comprare? E quali, soprattutto? Quelle più potenti, quelle con 60 di attacco. Le quadrelle no. Perché mi sembra che non puoi usarle, costano tante, tanto. E quante ne compri? Epo, sto vedendo che le stai comprando tanto. E non lo so, io di... Non lo so, io le frecce non le uso in Dark Souls. Ma io voglio la sua coda. Ma non te la dà, non lo colpisci. Ti rendi conto che perderemo due ore solo con la coda. Ma non mi interessa. Piuttosto potresti farmare, fare i livelli. Quando fai i livelli... Giunchiamo insieme. Va bene, basta. Ma a che livello stai c'è? Non lo so, però... E' a livello 20. Ok, ho comprato... Di niente. Allora, andiamo a farmare. Allora, il falò io l'ho fatto. Quindi... Che cosa c'è di qua, scusatemi? Sono curioso adesso. La mia curiosità è più forte della mia virtù. Cupidità? No, no, fidati. No, non è più. Oddio, un'imboscatissima! Un'imboscatissima! No, 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 scherzavo! Scherzavo! Ti giuro, non lo faccio più. E mi volevi uccidere. Eh, mi volevi uccidere. Aha, oramai sono preparato all'imboscata. Double headshot, raga. Double. Double. Li ho uccisi tutti e quattro senza farmi levare un briciolo di vita. Sono troppo forte. Questo live, forse forse lo carico su YouTube perché quando uno è troppo forte lo deve far vedere al mondo intero. Certo, certo. Sono troppo forte in un minuto di live su 30 ore. Quanto sei fastidioso quando vedi. Mamma mia, veramente. Quanto sei fastidiosa, mamma mia. Allora, Pepo, Pepo, Pepo. Dimmi. Me sono qui. Vabbè, se sei fastidioso allora me ne vado. No, rimanni, ti prego. Che ti prego? Qualcosa mi vuole. Maggio, ti prego, digli che deve arrivare solo al 24 e poi fai tu. È vero, Pepo, faccio io. Ok, arrivo al 24. Va bene, che vado a farmare anime. Preoccupati di arrivare al 24, poi ci penso io a te. Ok, vado a farmare anime. Diventi mio poi. Oddio, che schifo. Sei io? Anche tu sei mia. Ma che schifo. Io non voglio, Pepo. Te non sei al 24, però, amore. Oh, ma io sono fortissimo. Ma sono fortissimo. Oh, guarda, ho fatto triple shot. Ok, allora, Pepo, che tipo. Mamma mia, sono fortissimo. Ascolta. Sto expando, ok? Non mi rompere le palle, eh? No, expa col drago. Fai prima, fidati. Perché mi devo fidare? Voglio pure... Lui expa, rompendo le botti. Esatto, sta rompendo delle botti. Non è vero, veramente ho fatto il blackstaff qua io, eh? Basta chiamarli con questo nome. Solo perché l'hai visti in un video. Oh, eh. Mi rompere, ma non mi siete fatti idioti, però, eh? Senti, tu muori in modo brutale subito, eh? Ok, poi. Ahia, amore, leggi la shot. Che hai visto? Ah, non è vero, non l'ho visto. Sono uno sporco bugiardo. Oh, volevo ripattermi. Sono Ale con 40 iscritti, va bene. Ma il giù, cosa è importante? L'importante è il crash. Cosa devo leggere, amore? Armi771. E chi è? Ale ti voglio io? No, vattene via. Non vuole, Ale. Vero, amore. Non è vero, che... Chi te lo dice che Ale non vuole? Bammiamo tutti Ale non andare via. Perché dovrebbe andare? Esattamente. Perché Peppa non mi vuole. Ma non l'ho mai detto, sei tu che te ne volevi andare? No, sei una persona schifosa, Peppa. Ma non è vero, sono una persona bellissima. Stai rovinando la nostra vita. E noi andavamo così bene prima di riconoscerti. Guarda, guarda che sono forte. Guardami che sono forte. Sono forte. Dimmelo che sono forte, ti prego, dimmelo. Non me lo sto dicendo. Devi amare. Peppa stai tergicristalli troppo. Tergicristalli. Ah, cioè quindi mi stai dicendo che io utilizzo troppe tergicristalli nella macchina? Eh, si è aperto. Esatto. Tengo troppe. Allora, Peppa farma con il drago. Eh, te l'ho detto, Peppa si muore con il drago. Va bene. Va bene. Mamma mia. Va bene, dai, Peppa, me ne vado, se non fai il drago. Dai. Stai domandando il drago. Ciao a tutti, ragazzi. Io me ne vado. Maggio, mi accetti su Steam. Non sei un cavallo. Lo è Pepo perché non vuole Ale. Non è vero. Ma certo che la voglio. La voglio soltanto per un semplice motivo. Lei ha la patata. Io non caccio chi ha la patata. E non avrai mai. Questo lo sai, questo lo dici tu. Magari l'ho già detto e nessuno te l'ha detto. No, no. Certo, nessuno te l'ha detto. È brutto. Tipo, nella serie c'è gente, capito, davanti a casa sua a spiarla in attesa che di dito. Capitale, non puoi fare niente perché, tipo... Pepo non è forte, almeno il ciocchino di Shrek aveva sottato il drago. E Pepo non ce la fa, ti vergogna. Pepo rovina gli innamorati con passione. Tanto lo fa solo per soldi. È vero. Comunque sto formando in modo brutale, è che avete ragione. Con il drago è più veloce. Oddio mio. Te l'ho detto tre quarti di giorni fa. Non è vero. Sei un maledetto, sei un maledetto. Cosappilo, sali di livello che hai 3.000 anime. Sì, dai. Maggio, è tutto un trucco. Se te ne vai... Pepo sono necro in mutande. Che vuol dire? Ma perché? Madonna mia, sei troppo triste. Allora, che ne ho neppure? Un necro in mutande. Me ne ho affanculo. Oddio, sei una bruttissima persona. Non vuoi livellare che hai 4.000 anime? Eh, non ci arrivo al 21. Me ne servono di più. Con 4.000 faccio due livelli. Vabbè, falli però. Così, te li tieni per... 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 Ma per dopo cosa? Ma non mi è mai fastidioso, eh. Perché l'ultimo commento dice scoreggia? No, non lo so. Ma anche se non mi rispondi alla domanda... Ma anche se non mi rispondi alla domanda di prima. Bike, non so cosa mi hai scritto. Iscrivimelo, scusami. Allora, ragazzi, quindi... Io... Direi anche di andare a letto tra un po'. Dai, prova a livellare, vedi. Eh, io direi che volendo... Una volta che sono arrivato a questo livello... Allora, facciamo così, Pepo, Pepo, Pepo. Iona, arrivi al 24. Vediamo se passiamo. Chiudiamo qua. E dal prossimo live vengo io. Ok, mi piace. Allora, aspetta, no, no, no. Risediamoci nel falò. Risediti. Allora, avanzamento di livello. More, ci serve. Cosa aumento? Ah, no, sta bloccata. Cosa aumento? Eh, metti... Alza la smina. Poi? No, aspetta, 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 aspetta. Non alzare. Ragazzi, cosa... Per portare più peso, cos'è che bisogna alzare la stamina? Adesso due ore. Sì, va bene, aspettiamo nel mentre io farmo anime. Sì, sì, tu farma. Maggio, mi saluti? No, dai, ragazzi, non vi saluto, perché sennò dovrei salutare tutti. Ma che sa me? Vi scongiuro. Capitemi. Non voglio essere cattivo. No, sì, perché Maggio è una cattivissima persona. Lui è un cavallo. Non è vero, basta. Allora adesso spammo il mio canale in chat e non faccio scrivere nessuno. Guarda, i cavalli lo fanno, i cavalli lo fanno. Basta, ora lo spammo, basta, ma è rotto. Oh, guarda, ma io sono fortissimo comunque, eh. Mi sento in dovere di spumare il nostro canale in chat, perché ora il mobotto mi banna. Sì, ancora me. Sei una bruttissima persona. Guarda, guarda, guarda. Che palle, ragazzi, ma se... Io dico, se non vi piace il gioco... Esattamente, non guardate il live, non li guardate. Se non vi piace un video su YouTube... Ecco, mi sono mancata, vero? Sì, amore, aspetta, no, sto dicendo una cosa importante. Se non vi piace un video su YouTube, voi non andate a cercarlo, o se lo andate a cercare, guardate i primi dieci secondi, vedete che non piace, uscite. Perché mi fai morire? La tua voce mi porta a sfida, la tua voce. Sì, ma guarda come ero te intorno a quello lì. Dicevo, se non vi piace il gioco... Nessuno vi ovvio, io non vi sto andando contro, però sto dicendo, se non vi piace, perché state qui? Perché c'è tempo. No, ma io sono una brutta persona, non guardate. Se non vi piace, seriamente, non ha senso. Se non vi piace il gioco, raga, fate altro. Non lo so, chiamate la vostra ragazza, andate a fare l'amore, non lo so. Cioè, non fate quell'amore, ma il gioco non vi piace. Adesso ti chiamo. No, dai. Ale preferirebbe stare con me. Non penso proprio, perché ha detto che chiamavano... Eppure io chiuderei il live. Eh, perché non ho il numero di pepo. Mi saluti Pepo Magu. Eh? Pepo Magu? Ciao. Non lo so. Pepo vuoi la patata, apri il frigo e vuoi comprarla. L'una ai dieci della video giura. Pepo sei un figo più di Magu, ma non più di Ale. Ebbè, ovviamente alla patata. Perché io sono l'ultimo della scaletta, e guardiamoci. Buonanotte, ciao a tutti. Vedi, ha risposto quello di prima. Perché ci sta pepo, sto nel live? A me va bene. Però, allora stai, ascolta quello che dici pepo e ridi. Esattamente. Se non ti piace il gioco, non saprei... Ma se c'è c'è c'è, non fa ridere. Perché devo ridere? Ok, io sono un... Ok, aspetta, vado a... Che livello sono, raga? No, non scrivo il mio numero di celli in chat, però scrivo il nostro link di YouTube. Adesso arriva il posto e ci vanno. Mi fate un favore, andate tutti nel suo ultimo video, se avete immaginato... Oppure, anzi no, di meglio, scrivete... No, 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 scrivete cavallo piuttosto, vi prego, l'ultima volta che vi può detto... No, 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 andatelo, no, no, voi si spamma, andate là, scrivete tutti quanti, quanti siete, 243. Se io non vedo nel 243 commenti nel loro ultimo video, non vi parlo più. E' cattivo te. Spammate, proprio, dovete fare... E poi, cavallo. Cavallo, 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 proprio brutale, e fatelo ogni giorno. Ho paura delle notizie che arriveranno. Ok, la gente sta scrivendo blu 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 in chat di Twitch. Perfetto, mi sa che hanno capito tutto allora. Allora, avanzamento di livello... Io sono a livello 20, devo arrivare al livello? 24. Sì, sti cazzo, qua ci ho fatto 6 mesi però. No, dai, perché sei così cattivo? Sappilo. Scusa, è una persona cattivissima. Cos'è un momento? Vitalità, stamina o forza? Io alzerei ancora un po' di... La stamina, così... No, aspetta, fammela vedere. Sono 16, 15, 16. Fai arrivare in 16. Vitalità, forza e stamina, falle andare insieme. Che è la destrezza, però. Beh, la destrezza mi serve per l'arco. La destrezza? No, la destrezza non serve solo per l'arco. Mi sembra che serve anche per la velocità, ma non sono sicuro. Quindi, ragazzi, non non... Allora, andiamo ad entrare che facciamo... Maggio, non sei un cavallo, sei un mulo. Oh, mio Dio. Cosa è successo, amore? Ho già visto 5 commenti... Dai, sono maledetto. Ragazzi, ragazzi, fatelo. Ragazzi, soltanto 5. Mi state... Ah, guarda, sono andati come spam, così quasi li eviglino. No, guarda. Siamo lì lì. Oh, esamina commenti spam. Guarda, mi state sentito che li approvo, tranne te. No, dai. Oddio, ma che cazzo... Ma non l'ho capito, ma che cazzo... Mi stavo attaccando. Chi era quel tizio? Ma, Giuliale? Perché la sputazza sta vicino alle scale? Perché salito. Cosa? Perché la sputazza sta vicino alle scale? Perché salito? Per ridere. Per ridere. Mamma mia, solo lui poteva ridere. Sai cosa fa una monetina quando cade? Rimpim, pintintin... No, non era così la battuta, ho sbagliato! Basta, cosa fa una monetina quando cade da un gradino? Basta, io lo banno. Facciamo più ridere prima. Facciamo più ridere prima. E facciamo da soli. Grazie. Dai, mi avete cagato dalla stanza, che stracchio. Non hai sentito lei che mi ha detto... Siamo da soli. Certo. No, riascoltati live. Riascoltati live. Riascoltati live, se non mi credi. Eh, allora non dire, non è vero. Riascoltati live e lo senti, c'è la chatta testimonio. Ma io mi fido della mia ragazza. Aia. Ok, forse non faccio biglio con tipo nei paraggi. No, 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 live, l'avete sentito? E io non ho detto nulla. Io non ho detto nulla. Mentre lui non c'era, Ale ha detto quel che ha detto. Io solo non c'era. Hanno detto di bannarmi, non mi vogliono più. Sì, perché sei cambiato. Comunque sto farmando anime da fare schifo. L'importante è che arrivi a 24. Allora, facciamo così. Tu arrivi a 24. Vediamo se riusciamo a giocare insieme. Se ci riusciamo siamo a cavallo. No, non è vero, io non sono a cavallo. No, non vogliamo stare sul cavallo. Esattamente, io non voglio stare sopra di te. Dai, basta, che poi la gente non ci prende sul serio. Noi siamo youtuber professionisti, lo vuoi capire questo? Io sono youtuber professionista. No, non è vero, tu sei una persona poco raccomandabile. E Ale. Ma perché è una persona che ha detto. Le mamme pensano che tutti non mi vogliono. Magu, Ale sei un figo della Madonna. Sì, perché la gente, esatto, ragazzi, voi dovete capirlo. Forse non l'avete capito. Noi ci chiamiamo Magu e Ale, perché io mi chiamo Magu e lei Ale. No, pensavo... No, 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 no. No, non pensavo Magu e Ale tutto attaccato. No, perché la gente ci continua a chiamare Magu e Ale sei un grande. Ma come sei un grande? Cioè siamo due persone, non è difficile. Due persone. Cioè siete un cavallo e una ragazza. Sì, un cavallo. Due persone. Persona orribile, Beppo, sappilo che sei orribile. Due persone adesso. c'è definirti persona cioè Ale vuole Pepo rassegnati Maggio è più figo d'altronde Maggio zappava la terra mentre lei apriva le braccia ad un'altra persona mi ricordo si quell'immagine te la rinfacerò per tutta la vita è colpa di Albi se mi stai ascoltando sono sorso no Albi tu hai capito guarda che non mi ha dato 500 se salvato è il bastardo ah Pepo Pepo mi è stato detto la destrezza e la forza dipendono da che arma usi per esempio l'arma che hai ora addosso serve solo la forza invece per esempio la katana serve la destrezza invece la claymore quella che c'è davanti al drago quella lì serve sia forza che destrezza ok ok basta comunque io fossi in te farei così adesso salirei di livello Maggio è uguale maiale dicevo adesso tu a che livello sei? 500 ok all'aspetto un attimo no 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 ho avuto paurissimo lo ammetto auguramelo ti giuro non ho mai avuto così tanta paura aspetta no devo ricaricare l'arma come la ricarichi? non è un fucile no la devo ricaricare intanto allora cambia l'equipaggio no stavi cadendo si lo so infatti per quello ho detto no 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 con quel verso in occhio dai no che non mi spara più ma chi? la balessa spara solo tardi? no non le ho sparato si mi sembra di sì lei